Benvenuti in via del Guado, quartiere di Sant'Eusebio a Bassano del Grappa. Qui alle mie spalle scorre la Brenta, un luogo veramente incantevole. Qui invece dove stiamo andando adesso c'è un'area che per i regolamenti comunali è un'area verde ma qui potrebbe sorgere una palazzina, un edificio residenziale privato grazie a un accordo fra pubblico e privato contenuto in questi documenti. In Soldoni l'area verde in questione diventerebbe edificabile con una variante in cambio dell'accessione al pubblico di una fetta di terreno per la creazione di uno spazio verde. La bozza di accordo c'è già, noi ne abbiamo parlato con i residenti, sentite che cosa ci hanno detto. Succede che abbiamo saputo non da questa amministrazione ma per altre vie, ad esempio consultando l'albo pretorio che questa zona a fianco, che è una zona verde in un posto molto molto sensibile e particolare per la città dovrebbe essere oggetto di una costruzione di una palazzina, pare oltre 400 metri quadrati. E non è tutto perché oltre a un percorso amministrativo c'è un rapporto fra l'amministrazione di Elena Pavan e i cittadini nel quale sono saltati un po' quelli che erano gli accordi. Questa amministrazione aveva detto che avrebbe avuto sensibilità accanto allo slogan si cambia per i quartieri, per i cittadini promettendo addirittura due riunioni al mese per sensibilizzare, far presente quello che il comune voleva e intendeva fare. Adesso ci troviamo in questo quartiere dove c'è questo progetto che non conoscevamo. Sembra che si facciano le cose, si decide e poi successivamente si informa la gente, ha fatto compiuto. Allora siamo francamente delusi, almeno personalmente, per questo atteggiamento e vorremmo anche noi come tutti i cittadini dire la nostra perché questa è una zona della città di Bassano ancora prima che del quartiere di Sant'Eusebio. La faccenda è questa, con le ultime due amministrazioni comunali i tentativi di arrivare alla costruzione di un edificio residenziale in quest'area verde erano andati a vuoto, pare invece che stavolta si possa arrivare a un risultato concreto, quindi le persone che sono abituate a passare da queste parti per una passeggiata si preparino magari a vedere un panorama diverso.